Musica Voi c'è il suo corpo? C'è l'espoche di un bò che c'è la mia? Non lo �BÄN che c'è la mia? C'è un bò che c'è di un bò che c'è in un bò che c'è Bà Nè? Quindi? Quindi? .. .. .. .. .. .. grazie a tutti